questi sono i partecipanti al rally i testimoni complimenti Matteo campione italiano numero 33 al nostro traguardo Andrea Brandi Carabinieri brava grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti centrosportivo esercito di nuovo tutto in fila e ancora di nuovo si conferma campione italiano Sphialp complimenti Aida ed ora la bandiera ovviamente consegniamo la bandiera e suona l'inno d'Italia per questo meraviglioso podio grazie a tutti e di nuovo e di nuovo grandissimo applauso per questo fantastico podio fantastico podio